Ciao amici! Una piccola foca carina molto affettuosa? Un uomo e un gorilla migliori amici? Oppure un gatto molto protettivo? Ecco i 10 momenti indimenticabili che sono stati filmati con degli animali. La foca grigia è una delle specie animali marine più affettuose che tu possa mai incontrare e se per caso dubitavi di questo, ti invitiamo a guardare questa sequenza incredibile. Queste immagini sono state scattate da un appassionato di immersione subacquea vicino alle coste delle isole Farn, un piccolo arcipelago situato a largo di Northumberland in Inghilterra. Infatti Ben Burville, un medico britannico di 49 anni, ama praticare l'esplorazione subacquea e partire all'incontro degli abitanti del mare per osservarli nel loro habitat naturale. Questo sub disincantato pensava di aver visto tutto in fondo all'oceano, ma l'incontro che stava per fare quel giorno sarà ricordato per sempre nella sua memoria. Vagando per il fondo dell'acqua fredda, Ben Burville fu infatti sorpreso di incrociare un gentile piccolo gruppo di foche che nuotavano in quel luogo. Una delle foche iniziò allora ad accarezzare Ben e ad accoccolarsi verso di lui molto amorevolmente. Il piccolo mammifero arriverà persino a togliergli la sua maschera subacquea per vedere meglio il suo viso e soprattutto poterlo coccolare e baciare. Una scena tale di affetto è tanto più rara perché le foche sono solitamente molto timorose, soprattutto nei confronti della specie umana, che ha dato loro la caccia a lungo per le loro pelliccia e il loro grasso. Tuttavia una cosa resta sicura, né Ben né questa foca affettuosa dimenticheranno questo incontro sorprendente pieno di emozioni. I leoni bianchi sono estremamente rari in natura, visto che questo colore sorprendente dà loro un vero svantaggio contro le loro prede. Infatti i felini immacolati sono molto più visibili dei loro consimili bruni, ma bisogna proprio ammetterlo, sono i più maestosi felini che tu possa trovare nel mondo. Quindi guarda questa sequenza sorprendente che arriva senza sorprese dagli Emirati Arabi Uniti. In questo paese deserto, ma pieno di petrolio, è infatti molto consueto vedere gli abitanti adottare veri e propri animali selvatici. Da credere che gli Emirati siano diventati il paradiso dei felini, e questo abitante ricco che vedi possiede addirittura uno zoo a casa sua. Uno di questi animali più emblematici è senza dubbio questo leone bianco stupendo dall'aspetto imponente. Questo felino temibile viene filmato in piena sessione di coccole con il suo caro padrone, e guai a chiunque verrà a disturbare questo momento tenero. Quindi guarda come questo terribile predatore apre la sua bocca davanti alla telecamera, come per dissuadere il cameraman dell'interrompere questo momento prezioso. Queste belle immagini ci giungono dal santuario di salvataggio internazionale dei primati di Pretoria, situato in Sudafrica. Mettono in scena Cino, una piccola scimmia bruna, e Louise Smith, un'infermiera volontaria. Nel corso dei due mesi trascorsi in questo rifugio per scimmie, Louise e Cino hanno costruito un vero e proprio rapporto di fiducia e di amicizia. Questa sequenza filmata dalla ragazza ci mostra tra l'altro quanto sia solida questa relazione. Puoi vedere che Cino tenta di insegnare a Louise il suo gioco preferito, lo schiacciamento di foglie morte. Infatti il piccolo primate ama triturare le foglie morte cosparse sul suolo e si diletta del rumore che producono quando vengono ridotte a pezzi. Quindi ha pensato che anche Louise avrebbe apprezzato questo rumore e questa sensazione in mano, e che avrebbe potuto molto probabilmente farle piacere. La scimmietta maliziosa ha quindi deciso di condividere il suo hobby con Louise, cosa che tra i primati, come tra gli esseri umani, è una testimonianza di amore e di amicizia. Non è mai prudente lasciare tuo figlio in tenera età in un balcone o vicino a una finestra aperta, e questo anche se pensi che sia troppo piccolo per raggiungere la sporgenza, perché saresti vivamente inorridito da quello che può fare senza sorveglianza di un adulto, e questo parte dall'incendio della casa al rischio di elettrocuzione con le prese elettriche. Ma per fortuna, quando i genitori sono troppo occupati, i nostri cari animali domestici tengono gli occhi aperti, e possiamo dirti una cosa, non troverai mai babysitter migliore che il gatto che appare in questa scena incredibile. La scena ci mostra un bambino piccolo di un anno e due mesi che si diverte sul balcone, ma inizia a voler aggrapparsi alla sporgenza che sovrasta il vuoto. Vedendo questo comportamento pericoloso, è il gatto di famiglia che richiama all'ordine il nostro piccolo birbante, graffiandoli gentilmente le mani per far sì che molli la presa. Il giovane Monello non si arrende tuttavia, e indietreggiando un po' verso l'altra parte del balcone, tenta di nuovo di hissarsi sopra. Ma anche l'austero felino è irremovibile e non lascerà mai questo bambino, che adora, rischiare la sua vita. Tra l'altro rimarrà prostrato sul balcone per dissuadere il bambino dall'aggrapparcisi di nuovo. Quest'ultimo finisce per tornare all'interno dell'appartamento per giocare a un gioco un po' meno pericoloso. Cosa faresti davvero se tu fossi a capo di una fortuna di oltre 240 milioni di euro? Forse acquisteresti uno di questi bolidi, con ornamento rosso e oro, e timbrato con un cavallino rampante? O ti pagheresti forse la villa dei tuoi sogni, e ci viveresti come un pascià per il resto della tua vita? John Damian Aspinall, un uomo d'affari britannico, ha deciso di salvare dei gorilla con la sua fortuna. Infatti, quest'uomo d'affari è il presidente della Foundation John Aspinall, di cui l'obiettivo è di allevare dei gorilla e di rilasciarli in natura quando raggiungono l'età adulta. La sua organizzazione ha salvato così un buon numero di questi grandi primati, ed è Damian Aspinall stesso che si occupa di loro in tutto questo lungo processo. L'uomo coraggioso è talmente vicino ai suoi gorilla che non esita ad entrare nella loro gabbia e a coccolarsi verso loro come se facesse letteralmente parte della famiglia. In queste immagini inaudite puoi vederlo coccolare Kifu, un gigantesco maschio gorilla dalla schiena d'argento che farà almeno 250 chili. Infatti, bisogna aver sviluppato una gran bella relazione di fiducia per poter mettersi così alla merced di un tale animale, di cui le braccia potenti possono farti a pezzi il meno tempo che ci vuole per dirlo. Ma come puoi vedere, Damian ha completamente fiducia in Kifu, perché sa perfettamente che una grande amicizia li unisce per tutta la vita. Tira fuori i tuoi fazzoletti, perché questa sequenza commovente rischia proprio di farti venire qualche piccola lacrima di commozione. Quindi guarda bene questo simpatico rango tango, il quale ha deciso di scendere dall'alto del suo albero per giocare con questi cuccioli tigrotti. Questa scimmia enorme, proveniente dalle foreste dell'isola di Java e del Borneo, è infatti il più grande primate e arboricolo del mondo. Così vive quasi esclusivamente sugli alberi e scende molto raramente e solo quando è assicurato dall'assenza totale di predatori. Ma nessuna traccia di pericolo nei paraggi, perché il luogo è un rifugio per animali selvatici in cui sono coccolati con molta premura. Qui sono tutti affettuosi e questo rango tango non deroga alla regola. Basta vederlo coccolare questi piccoli cuccioli di tigre per finire di convincersi. E nel caso che non ti bastassi ancora, beh, guardalo qui, dare il biberon a questi piccoli cherubini felini, con una tenerezza paterna quasi umana. Dopo questa buona piccola poppata, ora gli resta solo di far far loro il ruttino a questi bei cuccioli di tigre e metterli a letto. Un vero padre modello. I rinoceronti africani fanno parte dei più potenti e dei più maestosi animali della savana, ma purtroppo per loro sono vittime molto spesso del proprio successo. Infatti le corna del rinoceronte adulto valgono come l'oro sul mercato nero asiatico, in cui sono ridotte in polvere fine e vendute ai farmacisti più famosi come rimedio efficace per molti mali. Allora, per far girare questo commercio terribile, i bracconieri non esitano ad uccidere questi animali protetti, per poi mutilarli tagliando loro le corna in modo atroce. Molto spesso sono famiglie intere che vengono decimate e di cui solo i più piccoli vengono risparmiati, perché semplicemente non hanno ancora sviluppato corna. Senza i loro genitori, questi cuccioli rinoceronte saranno condannati a una morte sicura e veloce, ma per fortuna un orfanotrofio speciale ha visto il giorno in Sudafrica, ed ora in poi questi piccoli cuccioli hanno un luogo in cui crescere. In questa scena meravigliosa possiamo vedere la favolosa relazione di amicizia che è nata quasi spontaneamente tra un gatto domestico e i piccoli rinoceronti orfani. Appartenente a una delle assistenti del parco, questo gatto gentile ha molto presto sviluppato un grande affetto per questi animali strani che non aveva mai visto in precedenza. E bisogna dire che questi rinoceronti gli ricambiano bene il suo amore, così come la sua padrona peraltro, cosa che dimostra che persino gli animali più selvatici possono essere facilmente addomesticati, con un po' di buoni sentimenti. A nessuno piace davvero andare dal dentista, e per alcuni il rumore del trapano in azione è tanto insopportabile quanto la tromba del giorno del giudizio. Ma per i nostri amici animali bisogna dire che è un dolce momento di piacere, soprattutto per quel che riguarda l'enorme ippopotamo di questa sequenza. Queste immagini sorprendenti vengono dallo zoo di Osaka in Giappone, in cui gli animali vengono trattati come ospiti illustri, con ciliegina sulla torta, delle cure dentistiche personalizzate. Ammira l'animale che peserà proprio 4 tonnellate all'incirca, e che esce rapidamente dall'acqua per andare al suo appuntamento dal dentista. Allora l'ippopotamo enorme apre ampiamente la bocca, che potrebbe peraltro inghiottire il pover uomo in un sol boccone, se volesse. Ma non fa nulla, perché questo vecchio animale disincantato ha questa piccola sessione di pulizia dentale, che è essenziale per la sua sopravvivenza, perché gli consente di pulirsi la bocca dagli avanzi di cibo che potrebbero causargli infezioni mortali. Perché se in natura non ha diritto a un dentista personale, sono gli uccelli che fanno il lavoro, pulendo a fondo l'enorme bocca e i denti di questo mammifero gigantesco. Una relazione vantaggiosa per tutti, visto che gli uccelli si nutrono anche loro dei resti raccolti nella sua bocca. Come sempre il meglio per ultimo, con questa sequenza perlomeno comica e insolita, e da consumare soprattutto senza moderazione. La scena è stata filmata nella valle indiana del Tirtan, nel Imchal Pradesh, sul ciglio di una piccola strada di montagna. Gli automobilisti, che erano abituati a passare da questa piccola strada tranquilla, potevano talvolta vedere piccoli scoiattoli o alcuni topi, ma l'incontro che stavano per fare quel giorno verrà ricordato per sempre nelle loro memorie. Infatti, dietro a una curva, le auto si erano fermate di colpo perché un animale molto strano si trovava sulla strada. Si trattava né più né meno di un bel leopardo di dimensione media e che non aveva visibilmente nessuna apprensione nei confronti degli umani. Anzi, questo giovane pelino si avvicinò persino ai conducenti, con una curiosità e un desiderio di giocare propri dei gatti domestici. E infatti questo leopardo, uscito dal nulla, iniziò letteralmente a giocare con le persone, esattamente come farebbe un gattone con i suoi padroni. Ed è tutto per oggi, cosa ne pensi di questi dieci momenti irresistibili filmati in compagnia di animali selvatici? Quale ti ha impressionato di più? Diccelo nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti, non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto! Grazie a tutti!